Progettazioni e costruzioni Bertoli Costruzioni e carpenterie in acciaio La ditta Bertoli si occupa dal 1956 della progettazione della costruzione di capannoni industriali e fabbricati civili, tettoie, soppalchi, scale di sicurezza, impianti sportivi, maneggi coperti e carpenterie medio-pesanti in genere. La ditta Bertoli si trova a Vinovo, Torino, in via Oitana 28. Per informazioni potete contattare lo 011 96 50 161.